Soffio di Gaion, soffio di Gaion, estremo, nativo, Anthony Conca, premette quel che premette, ma giunge quel che giunge. Iniziamo il prossimo video di Pallum. Allora, ragazzi, visto che è venuto l'inverno, facciamo dei video anche d'inverno, anche se l'inverno è una cosa un po' pericolosa. Stamattina c'è un sole, ma fa un caldo estremo. Palleggio! Oh, cazzo! Ho preso una testata notturna. Forse il flammiccolo di turno e il flammiccolo diurno. Palleggio! Wow! Quante volte colpisce quella Santa Benedetta Pacifica, pianta di zona inverno e invulnerabile, il pallone. Colpisce un'altra volta il flacco del castello, senza farlo cadere. Magico Anthony Conca, magica Luna, magica Boon, magica Piluna, magica Fluna. Estremo video di pallone, cresce. Guardate, Nagatomo esplosivo. Nagatomico esplosivo! Si presenta al video del pallone, anche se il pallone, se cresce o non cresce, non ci importa. L'importante è il lievito. Farlo diventare crescente con il lievito. Il lievito per impastare farine e impastare tutto. Lo usiamo per mettere il pallone nel forno. Farlo sgonchiare e farlo diventare una pizza con il lievito. Attenzione, il pallone, il cecchino, il cecchino! Oh, fermati! Ma dove vai? Ma che caspita! Stamattina mi sono umbriagato. Appena mattina? No, non è possibile una cosa del genere. Ma sia possibile che il video di pallone... Wow! Hai visto che il volo di l'ammiccolo ha fatto il pallone stamattina? Ma mi sembra proprio umbriagato. Stamattina sono io con Giorgio. Non è il pallone. Scusate. Grazie. Anthony Conca fa dei video estremi. Fanno ridere. Il castello della regina. Forse l'unica cosa fatta in modo ammissivo. Dico ammissivo. Si presenta Anthony Conca con la sua bellissima maglia. Fa un video di pallone estremo, nativo, ma sono sempre io Anthony Conca. Chi ti crede che sia? Facciamo il video di pallone, anche se alcuni palleggi mi fanno un po' male. Stamattina le cose vadano male o vadano bene a noi. Non ci interessa, no. Guardate che volo che ha fatto il pallone. Avete visto? È un campanaccio in aria. A tutta potenza vado nella mazzale della giungla di Ugo 3 e mi vado invitando nelle piante per lanciare un pallone altissima a quotura. Grazie. Grazie. Anthony Conca ha mostrato di tutto e di più per fare in modo che il video sia estremo, focoso, nativo, pericoloso e anche un poco creazionale sulla zona creativica. Grazie Anthony Conca per il video. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.